Buongiorno, grazie molto per la possibilità di parlare in questo periodo, è molto importante per me. San Pietro è una città meravigliosa e è la seconda volta di parlare in questa città e non ha cambiato. Ma un cambiamento non è la stessa, ma questa è la temperatura dei anni ultimi anni, ma ora... Ma ora è scattato la città nella città, perché non lo so, perché è scattato, ma è scattato la città. Questo è il gruppo di lavoro in Bologna, perché è molto bello per lavorare in Bologna, in the night. E l'Italian Sarcoma gruppo è occupato per l'organizzazione per la care della sarcoma in Italia. L'Italian Sarcoma gruppo è stato attivato in giunio 1997, la formalizzazione in ottobre 2002. L'Italian Sarcoma gruppo è stato 73, 18 nazionalisti, 13 università e 42 hospitali. L'Italian Sarcoma gruppo è stato 281, in May 2017. L'Italian Sarcoma gruppo è stato un'ottomità di Catania, potete vedere il montante del vulcano? L'Italian Sarcoma gruppo è stato un'ottomità di Tala. L'Italian Sarcoma gruppo è stato un'ottomità di Tala. L'Italian Sarcoma gruppo è stato un'ottomità di Tala. L'attività dell'Italian Sarcoma gruppo è stato un'ottomità di Tala e di Tala. L'itualità di Tala, finito di Tala. L'Italian Sarcoma gruppo è stato un'ottomità di Tala, e l'Italian Sarcoma gruppo è stata un'ottomità di Tala. L'Italian Sarcoma gruppo è stato un'ottomità di Tala. L'organizzazione è stata un'ottomità di generally, di un'ottomità di specializzazione con il Buddhist spirituality comitè e il seguiti comitè. Per ogni anno... Siamo incontri in Magstown per l'annuale incontro e l'ultima è in Pisa in aprile 2089. L'Organizzazione Fault Multispecialistica per la cura e la trattamento dell'osteosarcoma, adulto soft tissue, air-wing sarcoma, pediatrica rapidiosarcoma, GIST, clinica farmacologica, metodologica, rare bone sarcoma. E' soprattutto un panel dell'Organizzazione Specialist per l'adulto oncologia, pediatrica oncologia, ortopedica surgery, general surgery e patologia, e molto più per la biologia, radioterapia e toracica. e la formazione dei membri dell'etanzia comacubi è molto più di più di oncologia, di 122, di surgery 78, e meno di biologi, patologi, radioterapi, radiologi, psicologi, epidemiologi, perché è stato un paziente. E Italia Saccoma Group è una scientifica attività per la scientifica comitè, clinica studi office, partnership e collaborazione, european progetti e pubblicazioni, e collaborazione con pazienti, associazioni, e per Italia Saccoma Group, no profit. Questi sono gli studi di intervento in progresso in questo momento. È molto lungo la lista, ma non è pronto. e questo è un studi di observazione. E molto più pubblicazioni, 52, di 1999, 7, 2015, 2015, 2056, 3, 2, Mai, 2017. Il Comitè dell'attività è occupato di ricerca e protocolli, sviluppo, sviluppo, ed è molto più di studi di studi office, di ricerca e farmacovigilazione, e il datacenter. La operazione clinica con la collaborazione con l'IFA, l'instituto di farmacologia in Italia, la monitorazione al centro, la riunione, la collaborazione, la monitorazione e la farmacovigilazione. e anche l'administrazione, la supporto della donazione, la mantenzione e organizzazione. Questo è il scritto di Guedalani Esmo per la lettura, la guedalani, per la trattamento per l'osteosarcoma, l'avion sarcoma, e la soffitusi sarcoma, per la principale sarcoma in il corpo. La collaborazione con il Scientific Magazine, il New England Journal of Medicine, 1, Lancet Oncology, 2, Journal of Clinical Oncology, 11, Annals of Oncology, 12, European Journal of Cancer, 9, Pediatric Blood Cancer, 3, Cancer 2, 12. And this is the study in collaboration with the other center of Europe, with the lines, the memos, the RECUR, and STS-101. And in Italia, the potential for the actual population is in 60 million, but osteosarcoma in 75%, having sarcoma in 80%, soffitusi sarcoma in 50%. The financial support for the money, for the collaboration with the other center, and the member fees is 10 euros per year. The Italian Minister of Health, the National Research Council, the private association is much more, and the private company. This is the Allianza Contri-Cango, is the principal association for the contribution of the money for the Italian Sarcoma Group. And, can you see and perform the information on the website www.italiansarcomagroup.org and the newsletter, the first number is in April 2015. The future aims for the Italian Sarcoma Group is the consolidation of the specialist group, support to multicentric pre-clinical studies, participation to national and international calls, relationship with other national sarcoma groups, strengthening clinical studies office. The mission vision has, for the first is the patient is at the center for the cure and the treatment of sarcoma. The first one and second study centralized in few select centers with the collaboration of all other centers, first three and four studies in the whole center with centralized revision. Many thanks for the attention. Dear colleagues, any questions please? Thank you so much for your talk, but I have a question connected to organization problems of sarcoma patients. If you have a patient in Italy with suspicious bone lesion, how long is the way for this patient to the special sarcoma center? How long according to the time is it? Because you have no oncology specialty in Italy and Europe and all the civilian world. and therefore usually traumatologists, they come to traumatologists, and then how they go to special centers, sarcoma reference centers? But in this moment in Italy it's not to perform one specialty for oncology, orthopedic oncologist. But the specialization is in orthopedic trauma in this moment. because when you are to frequent the school of specialty, can you go for our decision to stay, to perform and to frequent the school of oncologists. because in this moment it's not to stay. But in the future it's possible to perform and teaching for the oncology orthopedics. In Italy in this moment there are only three hospitals that we do only oncology orthopedic surgery, which are of course Orthopedic Institute Rizzoli, Orthopedic Institute in Milan Gaetano Pini, and our Institute in Rome. Only orthopedic oncology. But in Carnegie hospital in Florence. Not only, but also traumatic, yeah. Only tumor in three hospitals. And pathological reports, they usually perform only in these three hospitals. Everywhere. Where I perform the biopsy for example. And they send you the material for the second opinion? Yes. Thank you. Thank you.